La prima volta che ha visto l'Everest lo ha fatto letteralmente dall'alto in basso, nel senso che era nello spazio, a bordo di uno space shuttle. Era il 1996. Da quel momento l'astronauta italiano dell'ESA, Maurizio Kelly, in orbita per la missione STS-75 della NASA, ha pensato che su quella montagna ci sarebbe salito a piedi. È una qualcosa che mi sono portato dentro per tanti anni, e un paio d'anni fa mi sono detto o adesso o mai più. Adesso ho cominciato ad allenarmi con una guida della Val d'Aosta molto esperto, che poi mi accompagnerà in questo viaggio. Per prepararsi all'impresa, Kelly, che abita a Torino, non solo si è allenato scalando i 4.000 italiani che incorniciano il nord-est del paese, ma ha affrontato anche i 6.962 metri della Concagua nelle Ande Argentine. Salire in montagna si fa fatica, richiede sacrifici, richiede impegno, ma fondamentalmente deve essere un'attività che piace. E volevo capire se effettivamente mi piaceva. Così è stato. Ho proseguito l'anno scorso, sempre con la stessa guida, e a metà dell'anno scorso ho deciso con lui di partire quest'anno per questa spedizione. Noi partiremo il 10 di aprile, torneremo presumibilmente fine maggio, inizio giugno, per una salita che è prevista tra il 20 e il 30 maggio. Dieci giorni per arrivare al campo base, poi tre, quattro settimane di acclimatazione, perché ovviamente le quote sono molto alte, già solo il campo base a 5.300 metri, e poi per l'allestimento dei quattro campi a quote superiore con l'ultimo a 8.000 metri e poi probabilmente il tentativo di salita se le condizioni lo permetteranno. Una sfida impegnativa contro incognite condizioni estreme, che però non fa paura a Kelly che con le sfide ci convive da sempre. Pilota militare, sperimentatore e astronauta prima, poi collaudatore dell'Eurofighter, per finire imprenditore, divulgatore e scrittore. Tutto in una sola vita. Una sfida della montagna, una sfida più personale dello spazio o di altre sfide come fare il pilota a bordo di caccia anche sofisticati, perché ti mette a contatto direttamente con la natura e anche in balia delle condizioni meteorologiche, quello che la natura ti propone giorno dopo giorno. Diciamo che sarà un qualcosa che mi immagino che potrò vivere con tutti i miei sensi, con tutte le sensazioni che cercherò di assaporare nel miglior modo possibile.